Lo sport è una pratica fondamentale per la nostra salute e ci aiuta a tenerci in forma e previene l'insorgenza di molte malattie, ma da solo potrebbe non essere sufficiente a garantire un sistema immunitario efficiente. Per questo pediatri e medici dello sport sono scesi in campo in favore della prevenzione e dei vaccini. L'appello a non abbassare la guardia sulle vaccinazioni raccomandate è arrivato in occasione del live talk sport e prevenzione il ruolo della vaccinazione per un sistema immunitario allenato e sempre in forma che si è svolto a Roma di recente con il contributo non condizionante di GlaxoSmithKline e Sanofi. Lo sport è importante per la nostra salute, può contribuire anche a rafforzare il nostro sistema immunitario? In che modo? Indubbiamente la cosa fondamentale è l'attività fisica. L'attività fisica deve essere correttamente fatta e correttamente prescritta al pari di un farmaco nella giusta dose, né troppo poca né troppo troppa. Lo specialista di misura sport ha la competenza specialistica di prescrivere la correttezza dell'attività fisica. E quindi lo sport aumenta, se fatto nella giusta misura, la capacità immunitaria e evitiamo ovviamente le esagerazioni. All'interno di questo la medicina dello sport ha un ruolo fondamentale, come si sa, nella prevenzione e quindi è fondamentale che si occupi non solamente dei rischi specifici sui campi di gara, per ogni disciplina e per ogni organo, ma la tutela soprattutto anche a livello vaccinale. La vaccinazione, al di là di quella obbligatoria, ci sono alcune vaccinazioni che sono raccomandate, che oggi svolgono un ruolo importantissimo nella tutela della persona e quindi la Federazione Medico del Perito scenderà in campo sull'onda di quello che è stata la comunicazione, i rischi e purtroppo le tragedie nel momento del Covid, ma scenderà in campo proprio per sottolineare il ruolo della vaccinazione a 360 gradi, dove non si corrono rischi e dove si tutela la salute, specialmente per quelli che hanno sport di gruppo, di contatto o che pure devono viaggiare in competizioni internazionali, ma in ogni caso sono tutte le persone portando una cultura positiva nel riguardo della vaccinazione per tutelarci dal punto di vista immunitario, ma che poi vuol dire salute e quindi anche un'opera di educazione dal punto di vista culturale perché sono non solo i corretti stili di vita, ma sono anche i corretti modi di tutelare la propria salute. Il medico sportivo può giocare un ruolo nel promuovere le vaccinazioni, per esempio in fase di rilascio del certificato di idoneità sportiva che può diventare un'occasione per eseguire uno screening vaccinale? Ma ho già anticipato che la prossima settimana il Consiglio federale della federazione microsportiva proprio sancirà il tema, voglio dire, di introdurre nella scheda anamnestica dei giovani atleti e di tutti gli atleti ad ogni età quello che è lo stato vaccinale, sia per avere un dato statistico per regione, per sesso, per età e quindi poter fare già in quel momento un'opera di formazione utile, voglio dire, alle persone. Poi è un momento straordinario in cui i ragazzi ad esempio vengono con i minori, vengono con la propria famiglia per sottoscrivere l'anamnesi e quindi sarà un momento non solamente di raccolta dati e di prevenzione, ma anche di formazione fondamentale per la nostra popolazione in cui di fatto oggi le vaccinazioni, quelle non solo obbligatorie, ma anche quelle raccomandabili hanno una percentuale in caso, stanno per essere un po' dimenticate e quindi è fondamentale per prevenire e che il nostro ruolo come medicina di prevenzione attivarci anche in questo ambito nel momento, dicevo, dello sport, ma anche, voglio dire, che può essere sostanzialmente utile all'interno della società. Secondo i dati dell'annualio statistico, tra chi pratica sport il 58% è nella fascia 6-10 anni, il 60,5% tra gli 11 e 14 anni e il 50% tra i 15 e i 17 anni. Come sono le coperture vaccinali in queste fasce di età? Le coperture vaccinali per quel che riguarda la fascia dei 6 anni sono sempre sufficientemente ampie, soprattutto per quelli che sono i vaccini obbligatori, anche se in riduzione rispetto a quelle dei primi 24 mesi dove siamo vicini a raggiungere quel 95% che è ritenuto alla soglia per arrivare a quella che viene definita l'immunità di comunità. Non mi piace chiamarle immunità di grece, chiamarle immunità di comunità in cui è protetto sia il singolo che la collettività. Negli adolescenti queste fasce di copertura si riducono, soprattutto si riducono per quel che riguarda le vaccinazioni raccomandate ed è quindi su queste fasce d'età che è importante mettere in atto una sinergia tra tutti gli attori che si possono rapportare con le famiglie e con i ragazzi e quindi i pediatri ma anche i medici dello sport per cercare di favorire un recupero di livelli più alti di copertura vaccinale. Per queste fasce di età quanto è importante il vaccino contro il meningococco B introdotto nel piano vaccinale nel 2017? Il meningococco B è una malattia per fortuna rara ma estremamente pericolosa perché ha un indice di mortalità purtroppo molto rilevante. Ci sono alcune fasce di età in cui è particolarmente frequente ed è soprattutto il primo anno di vita, però anche nelle fasce dell'età scolare ci sono un certo numero di situazioni per le quali è estremamente importante portare i bambini ad una sufficiente copertura vaccinale. Quindi un recupero anche della vaccinazione contro il meningococco B nelle fasce d'età che lei ha citato sarebbe sempre uno strumento importante di prevenzione nelle fasce dell'età pediatrica. Un vaccino ancora poco diffuso soprattutto tra i maschi e negli adolescenti sia maschi che femmine tra gli undici e dodici anni è la vaccinazione contro il papillomavirus. Perché è importante farla fare agli adolescenti? Il vaccino contro il papilloma è un vaccino importante perché essere protetti nei confronti di questo virus è uno strumento di prevenzione significativo per tutta una serie di patologie tumorali, non solo quelle della cervici uterina, ma anche tutta una serie di patologie del quadro testa-collo. Purtroppo la copertura oscilla intorno al 50% nelle femmine e al 40% nei maschi e sono coperture basse nei confronti di questa patologia, probabilmente perché non c'è una percezione a livello diffuso di popolazione dell'importanza di questa vaccinazione. Quindi di nuovo torno a ripetere che è importante mettere in atto degli strumenti di comunicazione condivisi tra tutti gli attori che si rapportano con queste fasce d'età per contribuire a migliorare quella che è la cultura vaccinale della popolazione e spiegare che questo è un potentissimo strumento di difesa dalle malattie con dei vaccini che sono ormai da anni conosciuti, stimati e con una percentuale di effetti collaterali estremamente poco rilevante. Grazie a tutti!